Quando arriva la pizzeria, cameriere, per me una pizza otto stagioni, le stagioni, le quattro, sono le trenta, c'è la roba che fa metto sola. La compagnia Il Faro, Franca Mercantini, andrà in scena il 20 agosto con quale spettacolo, qual è il titolo? Dunque è intitolata Spulciande qua e de là. Quindi perché sono diversi atti unici, cominciano e finiscono, quindi molto simpatici, allegri, che tengono allegro chi sta a sedere e guarda e ride e noi che interpretiamo perché portiamo felicità e gioia e sorriso e applausi, è la miseria. Chi è l'autrice dei testi di questo spettacolo? Gli ha scritti tutti la Dada, la Franca Mercantini che sono io, che conosco molto bene. Sì, ogni tanto vi vedete insomma. Sì, ogni tanto abbiamo preso confidenza, ecco, è tutto qui. Allora, una è la purga, un'altra è le casalenghe arsentide e l'altra è la genzia matrimoniale. Quindi lei è l'autrice, la regista, insomma un po' un factotum in questa compagnia. Sì. Va bene, allora, in bocca al lupo a tutti voi, siamo veramente curiosi di vedervi in scena qua alla BCC Arena per un'estate indimenticabile. Grazie. Grazie, è che il lupo che il perde il pelo, ok? Ma sai come dite, eh? Deco un son più mutante che ne un'estra. Dita, eh, a me soldata sono perra sorda.